John Borno ragazzi, Italia-Svezia il giorno dopo oggi ragazzi come potete vedere sto andando all'università qua c'ho, vabbè ovviamente, c'ho la maglietta dell'Italia, la maglietta con la quale non andremo all'europeo questa è la maglietta dell'europeo 2018 ragazzi, la maglietta che l'Italia avrebbe dovuto indossare all'europeo 2018 allora, premettendo che questa è una catastrofe sia per il calcio italiano, cioè sia per il calcio italiano a livello di partecipazione che per l'Italia in generale perché perdiamo tanto tanto tanto, io oggi volevo parlare di una cosa, una in particolare purtroppo ragazzi, noi la non qualificazione la meritiamo, cioè al di là di tutto, al di là della sfiga, al di là dell'arbitraggio che fra andate e ritorno è stato molto discutibile la ritorno anche per loro ma anche per noi, diciamo la verità al di là di tutto ragazzi, bisogna parlare di alcuni fattori, alcune cose molto importanti intanto mi è cascata la maglietta dell'Italia, la riprendo perché la maglietta dell'Italia non si butta mai per terra io credo che molti giocatori che abbiamo visto piangere ieri poi non parlo di tutti ovviamente perché non si può parlare di tutti e dopo ne parleremo bene alcuni non la meritano la qualificazione ed è giusto che non partecipino al mondiale ho visto lacrime di coccodrillo purtroppo, non parlo delle lacrime dei vari Buffon, De Rossi, Chiellini, Barzagli quelli che il mondiale non lo giocheranno più e quelli che probabilmente meritavano un mondiale molto più di tanti altri che al mondiale effettivamente ci parteciperanno sto parlando di giocatori che durante l'anno, e ragazzi questo è un dato di fatto purtroppo che durante l'anno hanno preferito dire mi sono fatto male, presentare il certificatino falso per tornare a casa perché lo scudetto è più importante e allora sinceramente se io devo vedere un'Italia quasi al completo perché il 90% no ma 80% dei giocatori forti che ci sarebbero voluti servire e chiedono il posto fisso in nazionale, snobbano le qualificazioni pensando che non siano così importanti e poi vogliono andare al mondiale facendo lacrime di coccodrillo e pensano di poter giocare solamente il mondiale o lo spareggio grazie ad altri che hanno fatto tanto per l'Italia per me non è giusto partendo ad esempio con tutto il rispetto da Marco Verratti che io ragazzi ora con tutto il rispetto campione quanto vi pare ma io lo inizierei ad escludere per l'Europeo non è cattiveria ma Verratti giocatore che poi mi dispiace è fortissimo fenomeno ma io dei fenomeni non me ne faccio niente se non danno tanto, non danno tutto per la maglia l'abbiamo visto per dire un Mario Gomez a Firenze Mario Gomez è capace di trascinare il Bayern Monaco a vincere tutto a Firenze fuori forma ha fatto schifo ha fatto schifo, diventato uno dei peggiori acquisti della storia della Fiorentina non parliamo di un giocatore che ci si aspettava di più no, avrà fatto 6 gol, 7 gol in due anni e mezzo di permanenza in viola ragazzi Verratti per anni, per anni, per anni ha sempre presentato il certificatino che non dico sia falso perché non voglio caluniare nessuno ma è pur sempre il certificatino con scritto si è fatto male, male all'inguine, male alla gamba, male al braccio poi torna a Parigi e gioca ora, poi gioca in nazionale e non dà il massimo doveva essere il nostro top player l'unica cosa che ha fatto è prendere un giallo per saltare il ritorno questa non è intelligenza ma ce ne sono tantissimi così ragazzi ce ne sono tantissimi che hanno sempre preferito saltare l'Italia Ligtestai, ma chi se ne frega l'Italia Lussemburg, l'Italia poi però quando effettivamente queste partite si va a vedere quanto continuo perché io poi ho scoperto una cosa purtroppo l'ho scoperta anche tardi perché altrimenti l'avrei parlato nei miei video e avrei visto Ventura con un altro occhio ancora più negativo di quello che ho visto ho saputo che gli scontri diretti non contavano cioè in senso contavano ma contavano prima la differenza reti quindi mi domando tu con quale faccia ti tieni il tuo 3-0 il tuo 4-0 nelle qualificazioni contro le squadre un pochino più deboli quando la Spagna magari vince 9-0 dicendo è però andiamo a fare risultato contro la Spagna cioè lui pensava solamente di vincere di vincere e di fare più punti contro la Spagna per passare no, tu dovevi cercare di fare 10 gol a partita ogni squadra e quindi mettere sempre attaccanti nuovi cambiare gli attaccanti a fine primo tempo per metterne di nuovi attaccanti che avrebbero voluto segnare attaccanti che avrebbero voluto far vedere il loro valore questo purtroppo in Italia non è avvenuto l'Italia ragazzi si è adagiata dalle qualificazioni al turno finale di qualificazione noi siamo usciti contro la Svezia una Svezia che ok con tutto il rispetto perché comunque alla fine il rispetto se lo merita al di là del fatto che io li odio cioè ragazzi io vinculo tutte le matite di Ikea però la Svezia ha passato un girone eliminando l'Olanda passando seconda dietro alla Francia ha eliminato l'Italia il mondiale loro a livello di squadre battute eliminate se lo meritano purtroppo spero che escano subito e che praticamente falliscano a livello calcistico perché ieri non mi sono piaciuti come comportamento altra andata e ritorno proprio a livello di cattiveria non agonistica ma comportamentale a parte questo ragazzi che dobbiamo dire Ventura basta Ventura veramente io ragazzi sono rimasto basito Ventura ci ha fatto entrare nella storia Ventura no ragazzi sono rimasto basito più che altro perché abbiamo sbagliato tutto 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 ieri Insigne non ha potuto partecipare al suo primo mondiale perché non è entrato mai perché non ha mai potuto dare il là ora io mi ricordo una storia vecchia con Ventura che Insegno non voleva partecipare però ogni tanto l'ascio di guerra si sotterra specialmente se poi è Daniele De Rossi sia una bandiera sia un giocatore fondamentale ma è pur sempre un giocatore a dire all'allenatore quello che deve fare per chi non lo sapesse racconto il piccolo episodio Ventura va a mandare in campo De Rossi De Rossi dice no cioè non entro ma che cazzo dici gli ha detto stiamo perdendo dobbiamo rimontare servono degli attaccanti e tu mi vai a mettere a me che sono un centrocampista difensivo sì assolutamente è giusto come ragionamento mi dispiace per alcuni giocatori che avrebbero meritato il mondiale uno è Insigne che non ha mai potuto vedere il campo un altro è Florenzi che come ha detto in conferenza stampa ha dimostrato sul campo sarebbe morto in campo per andare in Russia per qualificarsi in Russia un altro è lo stesso El Sharawi che quando ha avuto l'occasione proprio si è dimostrato giocatore importantissimo ieri uno dei migliori in campo lo stesso Giorginio ragazzi che se ieri non avesse giocato avrebbe ancora potuto naturalizzarsi i brasiliani e partecipare al mondiale eppure ha scelto di entrare in campo ed è stato uno dei migliori in campo ieri Giorginio ragazzi motivo per cui un applauso a Giorginio da questi bisogna riniziare per l'europeo non da Ventura Ventura via subito io darei io darei dimissioni se fossi da vecchio perché credo che ieri sia fallito un movimento intero un movimento che probabilmente è in crisi dal 2007 dal 2007 perché nel 2008 perché sia vero che poi ok nel 2008 sei uscito ai quarti contro la Spagna ai rigori ok sia vero che nel 2010 sei uscito ai gironi però nel 2012 sei uscito in finale con la Spagna è anche vero che tutto questo percorso italiano si è trascinato e stratrascinato in un modo poco consono perché comunque ok mondiali due mondiali abbiamo fatto due mondiali siamo usciti ai gironi contro la Germania ci siamo arrivati ragazzi usciti nel 2016 per un grande CT perché comunque il movimento italiano a livello di giocatori era molto molto scarso e lo sapevamo tutti però avevamo un CT che era un fuoriclasse nel 2012 siamo arrivati in finale complimenti ma lì ci trascinò più che altro Balotelli e lo sapete tutti quanti un Balotelli che non è stato convocato per favore che dal futuro mister chiunque questo sia di mettere da parte i pregiudizi di iniziare a far giocare i migliori addirittura guardate sarei disposto a vedere che io lo odio Roberto Mancini sulla panchina della parte che ora sta allo Zenit però sulla panchina dell'Italia se dovesse giurare che comunque convocherebbe i migliori perché quello ha sempre fatto lui con i migliori si è sempre trovato bene c'ha culo in dubbio non c'è dubbio su questo c'ha culo Mancini però i tuoi risultati li ha sempre portati a casa nonostante a me fa cagare come allenatore fa cagare come gioco del gioco me ne fotte niente quando poi vai a perdere 1-0 in Svezia hai 0-0 pareggio e non ti qualifica il mondiale preferisco vincere un mondiale non giocando per niente se proprio devo scegliere come allenatore ovviamente preferirei Carletto Ancelotti ma penso tutti però penso ragazzi che da questi bisogna ripartire mi dispiace per Buffon che doveva chiudere la carriera quest'anno e la va a chiudere così in modo veramente vergognoso vergognoso ragazzi vergognoso avevamo i giocatori chi dice che non avevamo i giocatori purtroppo mi dispiace perché io odio giudicare gente dalle opinioni altrui però secondo me non ci capisce nulla veramente che ho ma non per nulla non perché voglio giudicarli male ma i giocatori l'Italia li aveva non esiste però dovevamo fare un cambio generazionale dovevamo no non esiste la BBC da lì non si muove Buffon non si muove cioè per il mondiale che dovevamo giocare così come avevamo De Rossi ragazzi avevamo Parola avevamo Verratti avevamo purtroppo sono state convocazioni sbagliate mi domando perché Buonaventura non abbia mai visto il campo nazionale al di là degli infortuni mi domando perché Giorginio si scopra solamente all'ultima partita perché prima non si è stato mai messo mi domando perché tanti giocatori non mi domando più che altro perché Ventura non abbia deciso di cambiare modulo quando ha visto che tutto andava male e di non di convocare giocatori che avrebbero portato al 4-3-3 che tutti volevamo niente ragazzi io la mia ve l'ho detto ho fatto anche 10 minuti di registrazione se il video è piaciuto lasciate un mi piace fatemi sapere questo video è un pochino calmo buascialalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video forza azzurri e ci vediamo agli europei raga è una cosa tristissima è una cosa veramente tristissima buongiorno a tutti azzurri azzurri